lasciamo di qua siamo fuori penso che ci sia sempre da darsi una mossa questo gioco non credo che ci sia molto tempo per per aspettare molte belle animazioni ok corri nooo troppo presto cazzo rincorso bravo è un po' tutto molto faticibile gli altri ce l'hanno fatta dobbiamo capire cosa vuol dire si sta rivoltando no no ce l'ha fatta si sono salvati boom per loro scendiamo forza 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 qua posso chiamarli forza venite a friggere friggete 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 saltino da speranza dobbiamo spegnere un simpaticissimo calcio c'è un medikit in effetti sto bene ah ok non c'è quindi come dire inventario no io devo venire proseguiamo quello vuol dire che c'è da correre vediamo un po' bene tunnel di servizio ottimo vediamo su vediamo su dice che qui le strutture sono all'inizio questo tunnel è una scelta al punto di salvamento Shannon e Lydia potrebbero anche essere qui da ora qua non c'è nulla si scende non mi sembra una grande idea però se non c'è lì si può saltare direi di sì scoprimmo una macchinetta una di quelle macchinette ma quale macchinetta è importante sapere salto della fede st non promettono nulla di buono schifo una pagina strappata da un libro c'è sopra una poesia un tonore che a me si vedeva per tutta gente vabbè c'è ancora qualcosa? schifo ok c'è a saltare qua direi ricorsa saltissimo chiudiamo la valvola bene abbiamo bloccato lo scarico del cesso ancora un po' quando è così possiamo camminare non si corre ovviamente questo tubo che prosegue ne sospettisce non ci si imbatte direi va bene chiudiamo questo troppi cadavere i primi infatti si stanno svegliando corri 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 a bestia un chial pelo al pelo si qua non c'è molto da combattere non ci sono comandi da tirapuni quindi qua si usa l'ingegno basta si usa la testa e stop per quanto ce ne possa trovare in questo momento dentro di me vai 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 pelo medichitlo non serve ok 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 no 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 sono intelligente io ok ok si corre un po' sentino e forse sotto può esserci qualcosa un cadavere la carta all'interno di uno sconosciuto arthur l allen in questa cosa cosa dovrebbe la cosa dovrebbe portarmi l'idea light non importa ha delle light molto semplicemente ecco cosa rimane davvero del nostro mondo questi sono i resti della guerra tra l'uomo e le ombre gli stanzioni di ciò che siamo diventati maledizione zombie che arrivano punto di salvataggio bello sto gioco mi piace un sacco cosa c'è scritto nel cartellone? SIATTOL uno dei volantini del governo quarantena non si sarebbero salvati nemmeno con tutti gli avvertimenti del mondo è una catastrofe il mondo è completamente allo sbaraglio è un sacco di destra sono un sacco di destra